Ciao, bentornati e soprattutto buon anno! Io sono Jessica e all'interno di questo canale parliamo di tecnologia educativa. Oggi ho pensato di iniziare l'anno assieme a voi con un'attività creativa, quindi utilizzeremo uno strumento che abbiamo già visto e in questo caso, nello specifico, si tratta di SEM Labs. Se non avete ancora visto il video precedente, vi invito a andarlo a vedere prima di questo, così sapete di cosa si tratta. In generale i SEM Lab sono dei cubetti programmabili e interattivi che ci permettono di creare una marea di oggetti e di sperimentare moltissimo. Oggi li utilizzeremo per svolgere un'attività creativa che ci viene suggerita proprio da SEM Labs. Infatti dicevamo la volta scorsa che oltre ai kit con tutti i materiali necessari, tutti i cubetti interattivi, SEM Labs ci mette a disposizione anche dei corsi veri e propri, quindi delle unità didattiche e delle attività che possiamo svolgere in classe. All'interno di questi pacchettini di attività troviamo sia le indicazioni per gli insegnanti, troviamo anche i manuali per i ragazzi e oltretutto troviamo anche le slide che possiamo andare ad utilizzare in classe. Io sono andata a vedere queste attività che vengono proposte, sono già disponibili online in inglese, sono stati tradotti anche in italiano e saranno distribuite a breve anche in italiano attraverso i corsi di SEM Labs. Mi piacciono tutte, sono attività bellissime che ovviamente trattano le discipline STEM o STEAM, meglio perché ci aggiungiamo anche la A di arte al centro. per quanto riguarda questo kit che abbiamo visto che è proprio quello orientato alle discipline STEM. Poi assieme ad altri kit ci saranno altre attività che parleranno di altri argomenti, come ad esempio l'apprendimento del coding per i kit Learn to Code. Tra queste attività dedicate alle discipline STEM ho pensato di scegliere per voi e di creare assieme un'attività di musica, perché è una delle discipline delle arti, diciamo così, che vengono trattate meno all'interno del canale e che tratto meno solitamente un po' perché la conosco poco, la musica, e anche perché ci sono meno strumenti che permettono di giocare, di esplorare la musica. E visto che c'è un suggerimento di questo tipo ho pensato di sfruttarlo assieme a voi. Quindi con Semlabs andremo a creare una specie di tastiera, un po' digitale e un po' reale, che ci permette di suonare e di creare le nostre melodie. Eccoci allora all'interno del SemStudio. Come vi dicevo vi rimando al video precedente per vedere come funziona questo strumento. Lo troviamo come sempre su studio.semlabs.com Ma prima voglio farvi vedere le risorse che avremo a disposizione anche in italiano. Innanzitutto poi vi metto tutti i link nell'info box. Sono già disponibili in inglese e qui troviamo i diversi corsi e le risorse divise per corso. Quello che stiamo utilizzando noi adesso è il kit per lo Steam o STEM course. Quindi troveremo qui tutte le risorse suddivise anche per età e per tipologia. Ma come vi dicevo le ritroveremo anche in italiano all'interno dei corsi di Semlabs. Troveremo ad esempio il manuale per il docente e qui vedete la dispensa, chiamiamola così, che è disponibile per la nostra lezione. Quella che creeremo oggi, ne faremo assieme soltanto un piccolo pezzettino. Ma troviamo anche la dispensa per lo studente. Quindi ci saranno tutte le risorse che lo studente potrà avere a disposizione e che potrà utilizzare. In più, ed è la parte che personalmente mi piace di più di tutte, abbiamo anche le slide a disposizione che possiamo far vedere alla LIM oppure trasmettere ad esempio attraverso Google Meet. E qui abbiamo a disposizione non soltanto la parte relativa ai blocchetti, quindi quella che ci permette di far vedere agli studenti come realizzare i diversi progetti, o comunque dare il via alle sfide che ci vengono proposte, ma anche tutta la parte introduttiva, quella che potremmo definire di disciplina, che ci aiuta ad introdurre appunto le varie sfide che daremo ai nostri studenti. Iniziamo proprio guardando come è possibile comporre una canzone all'interno del Sam Studio. In questo caso la canzone che viene proposta è Twinkle Twinkle Little Star, ovviamente poi quando avremo la nostra tastiera potremo proporre quella che ci piace di più. Non la chiamo tastiera a caso perché in realtà andremo ad utilizzare proprio i tasti della nostra tastiera, del nostro dispositivo, che poi potremo eventualmente anche sostituire con i blocchetti Sam. Allora intanto siamo su studio.samelabs.com, andiamo a creare un nuovo progetto di Sam Space, e quello che ci viene proposto appunto è di utilizzare come input i tasti della nostra tastiera. Quindi nella sezione input andiamo a prendere il primo blocchetto che è KeyPress, lo selezioniamo, lo portiamo nella lavagna degli blocchetti. Adesso vedete che stiamo lavorando soltanto in digitale, quindi con i blocchi virtuali. E come output invece possiamo andare ad utilizzare il sound player. Quindi anche questo lo prendiamo e lo trasciniamo. Ogni volta che verrà premuto il pulsante, un determinato pulsante della nostra tastiera, verrà prodotto un suono. Quindi dobbiamo andare a congiungere questi due blocchetti, l'input con l'output. Lo facciamo come avevamo visto la volta scorsa, prendendo il puntino del blocco di input e collegandolo al puntino del blocco di output. Ecco qui, stanno interagendo tra di loro, infatti hanno assunto lo stesso colore e abbiamo questo bel link tra di loro. Allora, innanzitutto decidiamo come configurare il blocco di input, quindi premiamo e andiamo sulle impostazioni, sull'ingranaggio. Scegliamo la lettera che vogliamo utilizzare, quindi il tasto della tastiera che ci servirà come DO, ad esempio. Io scelgo la A, così cominciamo direttamente all'inizio della fila delle nostre lettere. Ok, done per confermare e poi scegliamo la nota che dovrà essere emessa ogni volta che premiamo la lettera A. Selezioniamo quindi il blocchetto virtuale di output, selezioniamo le impostazioni e qui andiamo a selezionare il suono che ci serve. Nella categoria abbiamo anche note, ed è quello che serve a noi, e quindi andiamo a prendere a pescare il file di suono che è già compreso all'interno dello studio. In questo caso per noi è il DO e quindi lo selezioniamo. Facciamo la stessa cosa per le altre note, quindi anche in questo caso per il RE, ad esempio, prendiamo un pulsante di input keypress e non sarà più ovviamente la nostra A, ma sarà in questo caso ad esempio la S e negli output andiamo a prendere anche qui il sound player. Li uniamo e per il sound player andiamo a scegliere, sempre nella categoria note, in questo caso il RE e non più il DO. Perfetto, proviamo a vedere se adesso funziona tutto. Ecco qui la mia tastiera tutta bella impolverata, allora provo a premere la lettera A ed ecco che abbiamo il suono, il DO. Provo a premere il tasto S ed ecco che abbiamo il RE, quindi tutto funziona. Posso anche premerli ovviamente per fare una piccola canzone e avete sentito che ho trasformato la mia tastiera in una tastiera musicale. Un'altra cosa che posso fare è utilizzare direttamente i blocchetti sia reali che virtuali, quindi non utilizzare più soltanto i blocchi digitali, che sono questi neri che abbiamo a disposizione, ma come input potremmo prendere ad esempio un bottone, un pulsante meglio e come output potremmo prendere ad esempio, se lo abbiamo all'interno dei nostri kit, un buzzer o anche se non lo abbiamo nei kit ma lo utilizziamo soltanto in digitale. Anche in questo caso possiamo metterli assieme, quindi li possiamo collegare e andando a configurare il buzzer possiamo andare a scegliere esattamente la nota che ci serve. Inseriamo il volume al massimo, ok, e quando andiamo a premere sul pulsante ecco che viene messa la nota anche dal buzzer. Benissimo, questa era la nostra tastiera Sam Labs, un po' digitale e un po' reale. Io mi sono divertita moltissimo a creare e imparare un po' la musica attraverso l'utilizzo di Sam Labs e l'esplorazione delle attività didattiche che mi vengono proposte. Ce ne sono tantissime altre, dai terremoti alle stelle, ombre, luci, tantissime veramente risorse che potete sfruttare direttamente in classe e che sono già utilizzabili, quindi avete già chiavi in mano per sfruttare queste attività all'interno delle classi con i vostri studenti anche eventualmente online, ne parlavamo anche la volta scorsa. Come sempre aspetto di sapere che cosa ne pensate, vi do appuntamento qui sul canale per parlare assieme a me di tecnologia educativa tutti giovedì e qualche lunedì anche con i video extra. A presto, vi saluto, ciao!